Musica Cari amici telespettatori di San Marino Web TV, un buon pomeriggio da Axel Paderni e un bentornati nella nostra programmazione dedicata al territorio sanmarinese. Quest'oggi torniamo a occuparci di uno dei monumenti e dei simboli della nostra Repubblica. Torniamo al treno bianco-azzurro, ricordiamo la ferrovia San Marino Rimini che è stata attiva dal 1932 al 1944. Quindi andiamo a incontrare l'associazione treno bianco-azzurro e scopriamo le novità che ci sono in essere. Bene amici, ci ha raggiunto qua il Juma Terenzi dell'associazione del treno bianco-azzurro. Un treno bianco-azzurro che si prepara, si spera per quest'estate imminente, a trasportare passeggeri. Certo, stiamo aspettando con ansia che venga certificata la possibilità di portare delle persone a bordo. Dovrebbero essere gli ultimi dettagli che stiamo aspettando che vengano fatti a breve. Ricordiamo la recente visita degli ispettori della Fondazione delle Ferrovie dello Stato che hanno ispezionato ovviamente la galleria, i binari, l'elettromotrice, si sono detti comunque molto soddisfatti per lo stato di conservazione. Esatto, esatto. Diciamo che sono stati portati a termine alcuni accorgimenti che mancavano. Per esempio è stato potenziato il serbatoio dell'aria compressa, controllato tutte le eventuali perdite, il sistema elettrico. C'è un problemino, diciamo, leggero che però purtroppo questo ha ritardato la certificazione e comunque dovrebbe essere, come ho detto prima, abbastanza imminente che venga fatto. Ricordiamo la vostra associazione, Treno Bianco Azzurro, si prepara quindi a ospitare tanti visitatori che dopo un giro in treno potranno vedere anche la vostra bellissima mostra con tutti i cimeli proprio della ferrovia e poi eventualmente anche fare un ottimo aperitivo in vostra compagnia. Perché no? Noi è un sogno, specialmente mio personale, che mi piacerebbe realizzare un bel giretto in treno, un aperitivo, visita alla mostra e mi auguro che questo possa essere realizzato il più presto possibile grazie anche ai nostri, ovviamente a tutta la squadra dell'associazione Treno Bianco Azzurro in primis il nostro macchinista Valeriano, che senza di lui non si può muovere il treno noi abbiamo provato anche a dargli una spinta ma purtroppo non si muove. Bene, a questo punto andiamo a bordo. Bene amici, ci ha raggiunto Valeriano Vagnini, il macchinista dopo tanti anni, com'è lo stato di questa elettromotrice? Direi in buono stato, dobbiamo dire che i motori sono i motori originali quattro motori, sono stati semplicemente aperti, revisionati e dopo 90 anni ancora perfettamente funzionanti. La carrozzeria forse, senza forse, necessita di qualche ritocco mentre gli interni, come poi vedremo, sono in ottime condizioni. Beh, per te è onestamente una grandissima emozione peraltro mi avevi raccontato che i tuoi nonni viaggiavano proprio su questa elettromotrice quando erano giovani. Sì, mi hanno descritto il viaggio come un viaggio bellissimo e affascinante poi all'epoca erano tanti chilometri anche se erano solamente 33 chilometri però per loro era un viaggio importante ma non solo la distanza ma era spettacolare tutto il percorso troviamo anche testimonianza dai macchinisti originali dell'epoca i quali descrivevano il percorso una cosa stupenda che sarebbe ancora oggi da ripristinare per trasmettere le emozioni che provavano loro. Ne ricordiamo questa elettromotrice è stata reinaugurata nel 2012 peraltro il viaggio inaugurale è stato fatto dai nostri capitani reggenti dell'epoca peraltro tu hai potuto incontrare anche dei giovani di allora che rivedevano dopo quasi 80 anni questa ferrovia. È stata una cosa indescrivibile perché sbucare da questa galleria tornare in su e vedere questo mare questa folla di gente e poi vedere i visi di questi bambini io li chiamo bambini con 80 anni e scendere alla lacrimuzza dal proprio viso è stata una cosa indescrivibile oltre l'emozione del viaggio. Bene amici concludiamo il nostro servizio siamo seduti nella prima classe della B03 ho il piacere di avere qui al mio fianco Matteo Neri socio dell'associazione nonché futuro macchinista. Sì per me sarebbe un gran sogno poter guidare questo terreno storico anche perché io sono appassionato di tutto quello che è la storia del nostro territorio e soprattutto poi il terreno sono anni che ho questa passione e solo ora sono entrato nell'associazione ma mi rendo conto che ho perso tanto tempo e quindi cerco di recuperare il più possibile in questo periodo diciamo. Diciamo che né io né te quando c'era questo treno eravamo nati però comunque dai parenti ne abbiamo sentito tanto parlare. Sì esatto ho anche un racconto di mia nonna al tempo di guerra che si andarono a rifugiare dentro le gallerie appunto durante i bombardamenti e quindi la storia del treno tocca un po' tutti quanti diciamo qui a San Marino e anche Rimini e dintorni. Ma secondo te anche dei giovani o giovanissimi come mai dovrebbero provare questa esperienza di salire sul treno e soprattutto conoscere la sua storia? Ma secondo me dovrebbe tirare molto giovani perché è una cosa veramente bella cioè è un'emozione unica poter viaggiare su questo treno del 32 è veramente bello secondo me è una cosa spero che sia presto possibile poter viaggiare appunto su questo treno è veramente da provare. Bene amici telespettatori di San Marino Web TV vi ringraziamo di essere stati con noi ancora una volta grazie all'associazione del treno bianco-azzurro per essere stata disponibile soprattutto averci fatto conoscere le ultime novità proprio per quanto riguarda questa bellissima ferrovia e ci vediamo nel proseguo dei programmi di San Marino Web TV da Axel Paderni da Città di San Marino è tutto linea alla regia di San Marino Web TV